Oggi vi presento il vegan pullet jackfruit con la salsa a coslo, è una ricetta buonissima. Ho preso 500 grammi di jackfruit, ho tolto l'acqua, ho lavato, ho piasciugato e poi ho tagliato. Potete anche sfilacciarlo con le mani. Poi ho cotto in una padella con olio della cipolla e ho aggiunto il jackfruit. Dopo qualche minuto di cottura ho aggiunto le spezie, quindi ho aggiunto dell'aglio, poi della paprika, un cucchiaio circa di pepe, ho amalgamato il tutto e infine ho aggiunto anche il sale e ho continuato a cuocere per qualche minuto e poi dopo circa 10 minuti ho aggiunto il brodo vegetale che trovate la ricetta nel blog. Ho cotto fino a quando il brodo si è asciugato e per circa 30-35 minuti a fuoco basso poi in una teglia ho disposto il jackfruit per poterlo cuocere in forno a 180 gradi per una quarantina di minuti circa. Dopo 40 minuti di cottura ho aggiunto della salsa barbecue, anche questa la trovate nel blog, ho amalgamato il tutto e ho cotto per circa 15-20 minuti. Dopodiché il jackfruit sarà pronto e potrò farcire il mio buonissimo panino. Oltre al jackfruit ho aggiunto anche la salsa koslo che è ottima per questa ricetta e la trovate anche nel blog. Io vi auguro buon appetito e spero che questa ricetta vi sia piaciuta.